La casetta dei giochi che si trova nell'area attrezzata del parcheggio di via Piccola Conceria si è trasformata in una ludoteca a cielo aperto nel cuore del quartiere San Francesco. Il comitato di quartiere ha promosso e realizzato un momento dedicato ai bambini e alle bambine che responsabilmente e ordinatamente hanno vissuto il weekend del giocattolo nei giorni dal 13 al 16 gennaio. Hanno scelto alcuni giochi rimasti nella disponibilità dell'associazione dell'iniziativa Don Gioco per un Sorriso del Movimento Volontari Italiani di Caltanissetta. Iniziativa che spiegano il presidente Marcello Bellomo e il segretario William Di Noto è stata possibile grazie sia alla collaborazione della cooperativa Io per voi per io che alla cooperativa Feedback che è all'ente di formazione professionale centro iniziative ricerca e programmazione economica CIRPE. Tutti soddisfatti della buona riuscita dell'iniziativa vista la gioia dei bimbi che hanno scelto i giochi che più preferivano e tutto in uno spazio in via Piccola Conceria sempre più colorato e gioioso per i momenti educativi e di azione pedagogica per comunicare e scambiare emozioni in un momento difficile come questo.